Tennis, Maria Vittoria Viviani e Alessandro Luisi trionfano all'Open di Loano, fotogalleri Si è concluso ieri il torneo Open al Tennis Club Loano, riviviamo la finale femminile per il primo e secondo posto fra Alice Vicini e Maria Vittoria Viviani Primi game di studio per entrambi le giocatrici, apparentemente più stanca Alice Vicini che ha dovuto faticare di più per arrivare in finale Fino altre due match piuttosto equilibrato, Viviani parte molto aggressiva, impostando lo scambio da fondo senza cedere campo all'avversaria che se ne accorge di essere in difficoltà su questo tipo di gioco e cerca di indirizzare la partita tenendo una traiettoria di gioco molto alta cercando di non far spingere la propria rivale, molto pericolosa di dritto Sul punteggio di 4-2, 30 pari, Vicini chiede l'aiuto del giudice arbitro per verificare una palla molto vicina alla riga laterale, successivamente giudicata fuori. Perde momentaneamente la concentrazione Alice Vicini e si va subito sul 5-3 È nel momento cruciale della partita che la Viviani annulla una palla break con errore gratuito dell'avversaria e il punto successivo si aggiudica il primo set point che spreca clamorosamente Al servizio per pareggiare i conti, Alice Vicini, che regala il primo punto in un momento molto importante del match con un rovescio incrociato che si spegne nel corridoio, ma mantiene la concentrazione e tiene il servizio, 5-4 si cambia campo Arrivano i primi due set point per la giocatrice del TC Crema che ha partecipato a gennaio all'Australiano Open Under 18, non sbaglia e si aggiudica la prima partita per 6 giochi a 4 Il secondo set sembra la fotocopia del primo, testa a testa fino al 2-2 ma la musica cambia quando chiude il turno di battuta la Viviani su game perfetto non concedendo neanche un punto, 40-0 game, 3-2 Non al meglio della sua forma fisica, Alice Vicini perde terrena e in poco più di un'ora arrivano tre match point per Maria Vittoria, i primi due sprecati ma non sbaglia il terzo e si aggiudica il primo posto sul podio Game, set, match Maria Vittoria Viviani 6-4 6-2 La finale maschile si è disputata a seguire, ha visto protagonisti sulla suggestiva cornici del tennis club Loano, Alessandro Luisi classe 89 contro Matteo Civarolo del TC Alba, che è stato sconfitto con un doppio 6-1 dalla testa di serie numero 1 Grazie a tutti